Il mare resta sempre una delle mete preferite per i turisti italiani e anche stranieri ed in Calabria i chilometri di costa sono più di 700. Coniugare poi la campagna, la buona cucina, i prodotti tipici con il mare potrebbe essere un conubio interessante e la Calabria è proprio la regione italiana che presenta la maggiore concentrazione di agriturismi su spiagge private e con l'11,54% e anche la terza, sempre in Italia, con strutture per l'ospitalità in campagna che si trovano vicino al mare, dati questi che vengono fuori da uno studio fornito da agriturismo.it Dunque sono diverse le aziende che, trovandosi geograficamente vicino al mare, hanno acquisito tratti di costa da utilizzare questa estate. Si tratta quindi di una combinazione interessante e che potrebbe riscuotere successo proprio in questi mesi.